amici di radio roma sport ciao da alberto fiano immancabile appuntamento con il punto sulla roma dopo villa reale roma sedicesimi di finale andata della coppa uefa o meglio dire europa league 2017 che dire un poker meraviglioso una roma sontuosa una roma mai vista in europa negli ultimi tempi una squadra forte matura cinica e con grande organizzazione tattica di gioco con grande grinta con grande personalità veramente plasmata e forgiata da luciano spalletti spalletti la veramente forgiata come meglio non poteva che chiude già all'andata il discorso qualificazione una vittoria importantissima anche in chiave campionato poiché la roma riceverà gli spagnoli giovedì 23 febbraio all'olimpico e dopo tre giorni a milano andrà a far vista all'inter quindi la vista all'inter a san siro la roma potrà andare riposata poiché con il villa real a ritorno si potrà dare spazio alle cosiddette seconde linee e quindi far riposare i titolarissimi quei 5 e 6 che compongono lo statura base base appunto della roma per farli restare freschi sia di gambe sia di testa in quel difficile match di milano che è fondamentale un crocevia del campionato della roma ovviamente veramente da non sbagliare assolutissimamente e possibilmente visto che la roma ne ha le capacità da vincere a tutti i costi ma torniamo a questa sera già nel primo tempo la roma dimostra di saper gestire molto bene la partita controlla le sfuriate del villa real con grande capacità diciamo tattica con grande disposizione disposizione tattica ma anche con buonissima e forte mentalità di quella squadra che sta a gestire che sta poi ben colpire infatti emerson palmieri ehm è lesso ad approfittare di un errore difensivo del villa real e a fare un gol bellissimo veramente eh di fattura capreggevole come tutti gli altri tre gol della roma dove ed in gioco si porta il pallone a casa visto che realizza una tripletta che lo lancia solitario in testa alla classifica dei capocannonieri di europa league quindi il tanto bistrattato ed in gioco dopo il primo anno purtroppo qui a roma sappiamo poco aspettare eh i giocatori e anche emerson palmieri ne è un esempio visto che è stato messo alla berlina dopo roma porto diciamo dicevamo e dicevamo ed in gioco appunto è capocannonieri sia di europa league sia del campionato italiano con 26 marcature stagionali quindi viaggia verso un record veramente di realizzazione eh che ha gonfie vele ehm che dire in cui una roma veramente abbiamo detto sontuosa un nella ripresa anche poi con l'entrata in gioco di Salah ha dato quegli strappi alla partita che appunto Spalletti si auspicava e così sono stati veramente eh non eh nove in pagella a tutti anche Alisson pochissimo impegnato ma l'unico intervento che ha fatto di una certa difficoltà con quel colpo di testa ha spizzato l'ha fatto veramente alla grande non a caso infatti è il portiere numero uno del Brasile eh quindi applausi a scena aperta veramente non so cos'altro aggiungere perché quando le partite sono eh negative oppure talmente positive c'è poco di cui parlare ma in questo caso faccio chapeau alla Roma chapeau a Spalletti ringrazio di questa grande gioia da tifoso che ci hanno che mi hanno regalato e che ci hanno regalato a noi tutti tifosi romanisti veramente la Roma e il calcio italiano ne aveva bisogno ricordo pure che per eh dar maggior risalto a questa grandissima vittoria della Roma che il Villareal è la squadra dove in casa soprattutto nel Coppo Europeo ha la migliore difesa dell'ultimo anno aveva aveva e che qui in Spagna nella Liga squadre come il Barcellona il Siviglia o l'Atletico Madrid avevano sofferto le pene dell'inferno veramente pene dell'inferno ripeto e il Barca qui era pervenuto al pareggio solamente all'ultimo minuto con un gol di Messi su punizione quindi questo per dare ancora risalto all'impresa titanica di questa grande grandissima Roma io l'avevo detto non nessun traguardo è precluso con questa Roma bisogna crederci l'Europa League abbiamo lo posso dire al 99,9 per cento i piedi degli ottavi di finale stiamo in semifinale di Coppa Italia siamo ancora secondi in campionato a meno sette dalla Juventus che per me questa è la Juventus meno irresistibile degli ultimi anni abbiamo lo scontro diretto in casa la Juventus deve andare anche al San Paolo insomma nulla è ancora deciso mancano quattro mesi ancora circa tre mesi diciamo di da fare a tutto gas per dare un senso veramente sontuoso superlativo a questa stagione e tornare a riempire la bacheca visto che sono ormai quasi nove anni che rimane vuota quindi mai come quest'anno ce la possiamo fare ripeto ancora a tutti l'invito di riempire l'Olimpico sempre ovunque comunque e di andare in esoti massicci in trasferta a sostenere questa squadra per grandi imprese mi raccomando sempre più che mai vicini alla Roma sempre con l'unico intento di far vincere la Roma e gioirne quindi sempre dai Roma dai veramente contro tutto e tutti perché tanto ora verranno fuori manovre destabilizzanti questo è un messaggio chiarissimo che la Roma oltre che in Europa lancia anche al calcio italiano veramente e si sa ci sono questi giochini i mischini per far sì che poi un ambiente che ormai si sta consolidando sempre più antagonista principale del vento del nord che come dire soffia da Torino a sponda bianconera beh dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti maturi anche a gestire certe pressioni esterne non solo la squadra ma anche l'ambiente tutto tifosi giornalisti tutti insieme veramente così si cresce uniti di fa la forza e mando poi un grandissimo in bocca al lupo veramente ad Alessandro Florenzi manca a questa Roma ma infatti così giocando si va a sopperire questa grande assenza e a vincere anche per lui perché ha un attaccamento a questi colori è un amore veramente encomiabili quindi un grande in bocca al lupo Alessandro sei uno di noi sei dei nostri e quindi ti vogliamo presto in campo tornerai più forte di prima è un grosso in bocca al lupo di cuore te lo meriti veramente con tutto il cuore con questo ho concluso per questo per questa sera qui da Radio Roma Sport per questo punto sulla Roma i prossimi appuntamenti ora il 23 anzi il 19 testa al Torino un avversario scomodo un avversario non facile ma non ci si può fermare l'ho detto la Roma in questi 20 giorni doveva scrivere la storia della sua stagione ed ha iniziato questa sera a farlo come meglio non poteva quindi continuiamo con questa calligrafia tra virgolette a scrivere queste grandi grandi imprese solo i grandi possono farla Roma tu sei grande tu devi crederci e quindi tu la puoi fare dacci regalici questo sogno e insieme tutti insieme lo andremo a realizzare veramente realizziamo i sogni scriviamo la storia siamo la est Roma daiero ma daie con questo è veramente tutto ma prima di chiudere il collegamento ovviamente voglio mandare i consueti saluti di rito che poi per me non sono solo un dictat appunto di prassi di fine conduzione ma con piacere perché sono persone che veramente meritano questo oltre ai grandi professionisti e che io sono lusingato di aver conosciuto e di esserne diventato amico e di starci ancora a contatto sia a livello umano che anche a livello appunto mediatico mi riferisco a Roberto De Angelis che ogni venerdì pomeriggio nei suoi vari canali radio rda radio 1 staff radio radio bomber e vi dicendo con il suo staff e con Stefano Tini mi dà l'onore e il piacere di partecipare alla loro trasmissione questa è la Roma mi riferisco agli amici di Roma Talk Radio Andrea Materia Fulvio Micozzi Marco Lupi Marco Santarelli Andrea Felici una grande famiglia davvero dove io sono speaker e conduttore e opinionista lunedì dalle 12 alle 14 o dalle 10 alle 12 in Roma Talk Radio SPQR oppure il martedì dalle 10 alle 12 ricordo che è la radio interamente dedicata al pianeta Roma 12 ore al giorno solamente dove si parla di Roma quindi è la radio dei tifosi giallorossi non dimenticatelo mando un saluto alla mia amica dottoressa in logopedia edizione nonché anche lei tifosa giallorosso ovviamente e bravissima cantante ed attrice teatrale Annalisa Peruzzi per chi fosse interessato alle sue materie può contattare la sua pagina facebook mando un caro saluto alla mia amica giornalista sportiva anche lei ovviamente tifosissima della Roma ex gazzetta dello sport Natalia Di Porto mando un saluto a Nicola Caprera degli inascoltabili anche lui un caro amico mando un saluto a Elda Alvigini alias Stefania Masetti dei Cesaroni che ricordo sta ottenendo un successo strepitoso ma non vi erano dubbi visto la bravura che ha come attrice appunto con il suo spettacolo Libri Tutti che si sta tenendo dal 14 al 19 febbraio al teatro dell'orologio invito tutti ad andarci mi raccomando perché ne vale veramente la pena e anche Elda ovviamente ti fa ha proprio con grande passione la S Roma mando poi un saluto al mio amico Guglielmo Timpano e al suo braccio destro anche lui mio amico il fido Flavio Maria Tassotti che conducono una trasmissione su Teleroma 56 in onda ogni giovedì dalle 21 alle 22.45 in diretta canale 15 del digitale terrestre gioco pericoloso e mando anche un saluto a Fabrizio Aspri di Roma News sia web che radio ovviamente e anche lui grande romanista ottima persona ottimo professionista e quindi un abbraccio anche a lui alla sua coordinatrice Arianna Botticelli e a tutta il suo staff e la redazione appunto di Roma News con questo è davvero tutto vi ricordo anche che per chi viene in agenzia del Mago Alberto sita in Via Candia 141 B come Bari zona Prati a nome delle trasmissioni gioco pericoloso questa è la Roma Roma Talk Radio SPQR e appunto anche come semplice ascoltatore o followers del sito Roma News o della web radio Roma News appunto poi citando oppure meglio ancora dicendomi dicendoci la parola magica che è dagli e no ma dagli avrà in regalo una giocata gratuita da 10 euro in ultimo ma non in ultimo mando anche un saluto al mio carissimo amico giornalista veramente ottima persona Michele Plastino con questo è davvero tutto continuate a seguirci e soprattutto continuiamo a tifare sempre più che mai e da stare vicino alla S Roma nulla è impossibile sognare si può realizzarlo anche dai Roma dai grazie da Alberto Fiano qui su Radio Roma Sporta ai prossimi appuntamenti buonanotte a tutti e anche un buon weekend grazie a tutti grazie a tutti